Per renderizzare tale effetto necessitiamo di aggiungere delle shape, quindi delle geometrie al nostro flow Volendo si potrebbe utilizzare un sistema di creazione della mesh come il blob mesh o frost Una plugin molto comoda della thinkbox ma a pagamento Io preferisco mostrarvi una soluzione più tradizionale, se pure più articolata Perché mi permette di avere maggiori variazioni oltre all'opportunità di mostrarvi molti più tools utili per l'apprendimento Procediamo oltre e torniamo al nostro flow Analizzandolo possiamo notare come avremo una prima parte dove la nostra goccia sarà più grande rispetto agli spruzzi che si formeranno al momento dell'impatto Di conseguenza andiamo ad aggiungere un operatore shape nel primo evento Per ora ci occupiamo solo del primo source L'operatore shape consente di utilizzare delle geometrie standard 2D o 3D tramite un comodo menu a tendina Per questo esercizio scegliamo la modalità sphere-80-sides E variamo la dimensione come meglio crediamo Per questo esercizio una misura 0,2 è più che ottimale Di seguito potremo inserire un operator scale che consente di variare la scala degli elementi presenti nell'evento Ma io preferisco sempre non appesantire troppo il flow di operatori e quindi andiamo ad attivare la scala all'interno della shape Modificando la variazione della stessa, ad esempio 25 Questo vuol dire che alcune particles con forma sferica saranno variate in positivo ed in negativo del valore inserito Nel nostro caso il 25% Nel secondo evento possiamo copiare questo operatore appena creato come copia Al quale andremo a variare la dimensione e la variazione della scala Rispettivamente, per esempio, 0,1 e 50 Lo stesso vale per il terzo evento dove avremo valori ossimili oppure, come nel nostro caso, 0,1, 90 e 25 Nell'ultimo evento invece andiamo ad utilizzare un operatore differente Poiché, in questo caso, vogliamo generare delle pozze L'ideale sarebbe utilizzare il blob mesh o delle mappe di opacità Ma voglio lo stesso mostrarvi un metodo che potrebbe essere sempre utile Seppur errato in questo determinato caso e vi spiegherò anche il perché Ma procediamo inserendo un operator shape instance Il quale ci permette di associare una determinata forma esterna alle particles Nel file reso a disposizione trovate una sfera alla quale abbiamo tolto i poligoni inferiori Inserito un ffdbox modifier ed un reset xform dopo averla accuratamente scalata Potete utilizzare questa forma oppure una vostra a piacere Andiamo ad associarla al nostro operatore E variamone le dimensioni della scala a 10 e 25 Visualizziamole come bounding box o geometri Notiamo che sono tutte orientate nello stesso modo Di conseguenza possiamo inserire un operatore rotate Con le impostazioni orizzontali Poiché non vogliamo creare delle rotazioni casuali in tre dimensioni Una volta aggiunto l'operatore rotate Notiamo ancora meglio che le particles generano più geometrie nello stesso punto E questo è un male Poiché abbiamo dei poligoni che si sovrappongono Per questo prima dicevo che questo metodo non è molto corretto Proprio perché abbiamo tale compenetrazione su più geometrie Volendo si potrebbe utilizzare un operator shape Con una forma sphere leggermente più grande O shape facing Del quale parleremo nell'esercizio scatter Comunque potrebbe essere anche utile avere più geometrie E per ora lasciamolo senza problemi Spostiamoci nel secondo source E come fatto in precedenza inseriamo un operator shape Con relativi parametri Forma sphere 18 sites Sites 0,2 Scale 100% Variation 25% Volendo potete copiare uno degli operatori già presenti E modificare i valori Nel secondo e terzo evento Inseriamo un'istanza degli eventi gemelli Però a questo punto vogliamo far sì Che alcune gocce ferme sul pavimento terreno Siano di forma sferica E che non vengano cancellate al momento dell'impatto Quindi creiamo un nuovo evento Il quale avrà i seguenti operatori Shape Stop Display Volendo possiamo creare nel vuoto un operatore forma Che già in automatico genera un operator display Dove possiamo variare la visualizzazione E poi aggiungere il nostro stop Oppure uno speed con valori a 0 Ma a chi dobbiamo collegarlo? Molto semplice All'ultimo collision dell'ultimo evento del nostro secondo particle source Et voilà Il nostro sistema è pronto Ci manca solo il materiale Nulla di più semplice Quindi inseriamo un operatore Nei due flow Material static Poiché vogliamo che non subisca variazioni nel tempo Ed essendo uguale per tutti gli eventi Possiamo inserirlo Volendo come instance Dentro gli eventi PFSource1 E PFSource2 Una volta fatto Basterà associare il materiale acqua Da noi creato Ovviamente è un materiale talmente semplice In tutti i motori di resa Quindi non c'è bisogno di approfondire E poi siamo pronti a renderizzare Piccolo consiglio È quello di attivare il motion blur alle particles Per ottenere un effetto molto più realistico Grazie a tutti Grazie a tutti.